Allora, io sono veramente entusiasta, proprio sono entusiasta anche perché insomma io poi lunedì torno a scuola, tu lo sai io devo dare il concorso, quindi lo faccio per me, però penso che potrò poi, insomma già da lunedì spero, mi auguro, però voglio mettermi alla prova perché io accetto ogni sfida. E poi anche poter subito da lunedì provare insieme ai ragazzi vedere cosa riusciamo a combinare.